Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada militare a Lusiana per un'auto finita nella scarpata del bosco, dopo la perdita del controllo del conducente che è rimasto ferito. La sua auto, una Fiat Punto, è finita rovesciata su un fianco, fermata dagli alberi appena sotto il piano stradale. I pompieri, arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto l'uomo, che è stato preso in cura dal personale del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale a Bassano del Grappa. Sul posto i carabinieri e il soccorso stradale per il recupero dell'auto.